Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play It. Oggi siamo su Junkyard Track, un gioco uscito da pochissimo, a 12,49€ circa, e sembra prendere molte cose da Mombazoo e da My Summer Car. Infatti lo sviluppatore si è definito un appassionato di questo gioco, soprattutto My Summer Car. Quindi lo scopo di questo gioco, vedete la mappa, abbiamo a differenza degli altri giochi, la mappa ci indica proprio dove siamo, e dobbiamo andare e prendere, in sintesi come primo obiettivo di giornata, prendere il nostro, il pick-up, comprarlo. Compreremo il pick-up e con quello poi lo andremo a modificare e potremo fare varie cose. Ho contattato lo sviluppatore pensando, diciamo, di prenderne le simpatie, insomma, perché ho fatto un tutorial grosso su My Summer Car, uno pure su Mombazoo, non mi ha filato minimamente. Quindi l'ho comprato e ci faccio questa cosa completamente in modo spontaneo. Corriamo i soldi, premendo il tasto I, grande novità, li mettiamo nell'inventario. Il computer è una sorta di recap di quello che sono le quest che abbiamo preso, perché ci sono anche le quest. E vi faccio vedere subito i tool che abbiamo. Beh, qua c'è una bacheca perché potremmo fare anche delle gare, col pick-up. Col tasto 2 c'è la chiave e il caricchetto, abbiamo il tester per vedere il livello della batteria, un cacciavite, il 3310 che possiamo usare per farci riportare a casa con un carro a trezzi, ovviamente perderemo tutti gli oggetti che abbiamo in macchina, quindi non potete usarlo come trucco, ci ho già provato. Gonfiare le gomme e un piede di porco. Questo in sintesi è quello che si può fare. C'è da prenderci un pochino la mano, soprattutto con la guida, perché la guida la trovo assolutamente ostica. Perché? Perché, allora, beh, intanto questa è l'auto, quella classica, libero utilizzo, ha il motore ma non è smontabile. L'unica cosa, magari possiamo aggiungerci l'olio, se va giù di olio, se la rompiamo, se romperà la carrozzeria, ma non ho idea se si possa riparare ancora o meno. La accendiamo, non farà un bellissimo rumore, però va. La cosa più scomoda di questo gioco è che il freno è con lo spazio e la S è la retromarcia, quindi se cercate di frenare con la S e magari frenate, prendete indietro, quindi è un gran problema. Andiamo in città perché la prima cosa da fare, come dice anche il tutorial su Steam, è andare a comprare il pickup dalla discarica. Lo pagheremo 400 dollari e dovremo ripararlo. Tantissime sono le parti che potete smontare dal motore, dai bearings classici ai pistoni e tutto, e dovremo rimetterla assolutamente a nuovo. Quindi cambiargli all'inizio, mancano delle parti come il cavo del carburatore e cose del genere. La rimetteremo a posto e poi, una volta completato il nostro pickup, potremmo fare varie cose, dalla classica gara alla consegna della spazzatura, quindi ritirare la spazzatura, montarla nel cassone e buttarla in discarica, così come dove è indicato sulla mappa, in basso a destra, il simbolino del piccone ci porta in miniera, dove possiamo scavare e rivendere il materiale raccolto per l'affinazione. Così come possiamo anche andare a raccogliere gli elettrodomestici che troviamo sparsi, buttati da incivili nel bosco e in giro anche per la città, e riciclandoli guadagneremo altri soldi. Quindi le attività ci sono, ci sono anche varie quest. Ho trovato una sorta di casa di telecomunicazione con una quest. Si prenderanno questi in giro, insomma. Mentre abbiamo a casa la tannica per poter riempire e far benzina, qua il carburante è ancora a metà, quindi non lo faccio. Io la macchina la mollo qui, anche perché quando voi la spegnete, qualsiasi sia la sua posizione, si ferma. Questo è il negozietto, per il momento visto che è tutto 24 ore su 24, cosa interessante che devono fixare è il biglietto del grattevinci. Dove potete grattare, in questo caso ho vinto 10, il problema che ho notato, che sicuramente risolverà perché lo sviluppatore rilascia aggiornamenti ogni giorno, è il fatto che si perde di rado e si vince molto spesso. In questo caso ho vinto 50 dollari, e quindi li prendo, primo i e lo metto in inventario. Sto un pochino arrotondando, adesso vediamo se riesco a vincerne di più. No, in questo caso non ho vinto ancora, ma pochissimo. Ne prendo ancora uno, giusto per non farmi trovare poi lo sguarnito di soldi. Tanti soldi. Qua ne abbiamo vinti 10, 5,50, siamo sempre lì. Va bene, dai, 50 dollari li abbiamo messi in saccoccia. Qua ci sono le parti e vi faccio vedere, poi magari potete rallentare il video, tutte le parti che ci sono. Coppa dell'olio, i vari alberi, i vari ingranaggi, il cambio, c'è la trasmissione, il motorino di avviamento, l'alternatore, c'è tutto. Ci sono varie cose, i bearing e tutto l' resto. Questi quelli comprati al momento non hanno prezzi altissimi, 250 dollari, così magari poi è calibrato anche in base a quello che guadagniamo. Comunque questa è la zona dove si compra la roba per la macchina, compresi i tubi del radiatore, insomma. Questo invece è un meccanico che ci fa a previo pagamento l'esame dei quattro cilindri, quindi la rettifica, insomma, bisogna fargliela fare. Questa è la zona, io qua avevo trovato uno che lavorava e mi ha dato una questa, e adesso non c'è, quindi questa è una cosa assolutamente interessante. Questo invece è un posto per delle telecomunicazioni, ma non so cosa sia, però anche qui c'era un tizio che mi parlava e mi dava una quest, che al momento non c'è. Questo è un edificio che non conosco ancora, non so cosa sia, ma mi sembrava, dall'ultima volta che l'ho visto, vuoto. E qua invece potete sedervi e giocare a poker, poker texano. Quindi giocate, giocate a soldi e potete vincere qualcosa, insomma. Questa è la, non è la città, ma è, vedete dove siamo, il gruppo di negozi. Mentre invece andando in alto dalla strada e girando a poi a destra, lì c'è il villaggio dove si potrà magari prendere anche qualche quest, ma soprattutto magari pulire dalla spazzatura e cose del genere. Ora, avviamo. Il gioco è anche fatto bene perché ha già comunque delle ottime recensioni su Steam. Ovviamente non ha l'esperienza di un Miser Mercado o di un Mombazoo. Qua c'è la forgia andando su da un sentierino a piedi. Qui, questo c'è il tizio che ci fa partecipare alle gare sul tavolo alla coppa, che potete vincere. Sono gare nelle dune, insomma, una roba del genere. Mentre noi procedendo di qua andiamo in quella che è la discarica e compriamo il nostro mezzo. Il nostro mezzo ci verrà consegnato il giorno dopo. Quindi in questo caso adesso noi possiamo andare di là. No, di là non c'è niente. Andiamo da questa. Ho visto che quest'auto qui si rovina, però non è modificabile. Anche lì sarà da vedere quanto sarà rompibile, diciamo, danneggiabile il pick-up. Comunque adesso ve lo faccio vedere. Pick-up che ovviamente quando ve lo portano a casa provate a accenderlo. Non si accende, quindi non ho potuto neanche fare il test della... della... come si chiama? Deve avviare il motore senza l'olio. Però potete andare sotto e smontare tutto. Allora, questa è la discarica. Qua dovrebbe esserci anche una zona dove si possono buttare le parti. Questa qui, credo sia questa. Si buttano le parti e lui ce le paga. Questo qua è il tizio. I personaggi li hanno fatti abbastanza bene. Questo qui è il tizio. Che vende il pick-up. A 400 dollari. Me lo porterà domani mattina. Quindi questa qua poi è la discarica. Dove potete andare a prendere varie cose. Potete trovarle vagando qua, ma al momento non... Forse c'è una parte qua che non ce la flagga. Quindi bisogna proprio... Ah, guardate, è un euro cinque questa macchina qui, sicuramente. Questa cosa del portare, far compenetrare gli oggetti e metterli in macchina funziona, ma fino a un certo punto. Perché ci sono degli oggetti non compenetrabili, come ad esempio i muri della casa. E quindi se voi state avanzando qualcosa e compenetrate una parete della casa con quell'oggetto, quell'oggetto vi resta fuori casa. Quindi bisognerà... A me sta bene anche il fatto di non far più... Oltrepassare nessun poligono, ma... Se lo farà così il gioco, lo sviluppatore... Vorrei sperare che sia tutto molto più comodo da posizionare, insomma. Ma anche se lo mettere nel baule, nel cofano della macchina qualcosa... Me lo deve fare semplice, insomma. Ecco, qua c'è la città, niente di che. E qua, alla fine, andiamo. Torniamo qui al distributore. Di benzina ce n'è. E la prima volta che avevo usato questa macchina... Probabilmente ero andato... Sì, mi ero ribaltato, ero finito nel bosco. E infatti avevo la spia dell'olio accesa. Infatti ho rifatto l'olio, ho rimesso l'olio e... L'avevo risolto. E non mi si chiude la portiera, non so perché. Comunque questo qua è il catorcio. Il classico catorcio... Come il furgone di My Summer Car... Come il pick-up di Mombazoo. Poi vagando anche per il bosco troverete il punto... Punti dove ci sono alberi tagliabili. Li tagliate e li caricate poi una volta che avete il pick-up. Cioè, non lo mette la costruzione del pick-up come obiettivo finale questo gioco. Come lo mette all'inizio. Cioè, come guardate su... Se guardate sul trailer su Steam... Lui dice giorno 1 compra il veicolo. Giorno 2 riparalo. Giorno 3 poi ci dà tutte le cose che potete fare. Quindi... Mi dà un fastidio sta portiera che si apre e chiude. Comunque va bene. Chiuditi. Eh, probabilmente devo fermarmi. Comunque... Fa un gran brutto rumore. E... Vabbè. Andiamo a casa. E poi vediamo. Il gioco ha sicuramente tanto potenziale. Al momento ha già anche tanti contenuti. Bisogna vedere per quanto sono stimolanti per voi. Nel senso che... A me tra tutti... Quello che mi è piaciuto il più era My Summer Car. Appunto per tante cose. Anche solo quanto era punitivo il gioco. In caso di infrazione. In caso di multa. Allo proprio del posto di blocco. C'era comunque una bella sensazione. Mombra su un po' meno. Da quel punto di vista lì. E questo staremo a vedere. Insomma. Qua sembra già... Comunque dei passi avanti rispetto a quello che erano quei giochi alla loro uscita. Comunque adesso scendiamo. Con il tasto X. Non ho comprato niente da mangiare. Mannaggia. E probabilmente... Mi sono perso il pezzo. Ah no, no. Dovevo pagarlo probabilmente dalla discarica col pezzo. Quindi mi è stato sequestrato. Oppure si è incastrato da qualche parte. Ma non mi stupirei con un gioco di questo tipo. C'è anche questo che un domani magari potrebbero anche abilitare. Perché non mi sembra sia attivo. Dovremmo che mangiare ma ho lasciato le pizze giù. Vabbè questo è carino perché è fatto meglio di Mombra su perché si muove... Con un movimento molto più fluido. Mi sembra che è un pochino più realistico. Mentre invece qui è un grande classico. Apriamo la tannica. C'è anche le animazioni. Sono fatte piuttosto bene. E qua abbiamo il manuale. Ecco questa è... La coppa dell'olio. Come montare il motore. Completamente. Poi c'è la manutenzione e tutto. Questo è il manualetto. Altro non credo perché c'è questo che... Vabbè lo saldate comprando il filo. Ma il resto non si capisce cos'è interagibile perché non sempre si vede. Come esempio questo vedete esce solo la manina e basta. Sicuramente poi giungeranno tante altre cose. Andando di sopra avete la possibilità di vedere di nuovo la assicurazione. Questo vabbè era quello della discarica che ci diceva. Abbiamo trovato quello che cerchi. Vado a dormire e vediamo se ha consegnato il... Il coso. Sì eccolo qua. È arrivato. È arrivato e questo è il pick up che al momento ovviamente non funziona. Non parte neanche. Allora quello che si fa in questo caso. Non possiamo portarlo dentro però possiamo uscire con il carrellino. Comunque. Aprendo il motore vedete possiamo accedere al tappo di questo. Al tappo dell'olio. Equipaggiando la chiavetta a caricchetto possiamo andare a svitare con la rotellina del mouse. Esattamente come in My Summer Car. Tra l'altro sempre nel riferimento a My Summer Car. Quando comprate allo store il cibo ve li mette nel sacchetto. Esattamente come quel gioco lì. Quindi praticamente qua abbiamo l'engine block e quindi cliccando vedete che viene fatto scendere. Posso abbassarmi col tasto C e prenderlo. Forse. Ok. E si vede anche il peso proprio quando tocco dentro. Se voglio riequipaggiarlo mi esce il simbolino del collegamento. E adesso mi sa che non me lo fa perché è rotto. Però esce il simbolino di collegamento. E io devo metterlo quando c'è la spunta. Eh lo sto spostando. È un classico problema di giochi di questo tipo. Ogni volta che si fa. E il manifold. Vabbè questo è il collettore di scarico. Vedete mancano i tubi qui dello spinta erogeno. La batteria. Ecco vi faccio l'esempio con la batteria. La batteria la metto qui. Vedete che c'è la punta verde. Sembra quasi lo stesso motore grafico. Qua manca il filtro dell'aria. Qua abbiamo spazio. Quindi secondo sedile cosa serve. Possiamo metterci tutti i vari strumenti per il nostro utilizzo. E qua abbiamo il crick per sollevarlo. E poi eventualmente svitare le gomme e gonfiarle. O cambiarle addirittura perché ci sono tante gomme anche da comprare. È senz'altro interessante come titolo. Faccio vedere anche come è fatto sotto. Se riesco. Ecco poi succedono queste cose che mi fanno girare le palle. Perché lo baggo male. Devo fare una cosa brutta. Uso il telefono. Transport me to town. Transport me to home. E non me lo fa. Annaggia. Niente. Io mi sono buggato. E non credo ci sia lo sblocco. Però ci sta anche a far vedere questo. Non far vedere sempre che è tutto perfetto. Perché in questi giochi non è mai perfetto niente. E niente. Non riesco a scendere. Pazienza. Dovrò uscire e rientrare. Oh no. Aspetta. Aspetta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ok. Bene. Quello lì non lo useremo mai più. Però lo porto fuori. Ok. Ce l'ho fatta. E lo usiamo. È proprio segno che tiene conto comunque delle collisioni questo gioco rispetto a tanti altri. Comunque sotto abbiamo tutto il discorso delle sospensioni. E l'olio. La coppa dell'olio. Il bullone della coppa dell'olio. E altre cose che si può vedere qua. E manca anche la cinghia qui. Il motore. E qua c'è il radiatore. Manca anche la ventola davanti credo. Quindi di lavoro da fare ce n'è. Bisognerà tornare in città. Bisognerà fare qualche soldo. Con l'Ugarte vinci. Ma sarebbe meglio fare qualche lavoro diciamo di trasporto all'inizio. Dai giorni successivi. Quindi da oggi in poi. In città si troveranno le quest. E guardando di là. Sto guardando sia la strada che va in città. Con il salitone. Ci sono anche delle torri di comunicazione. Vedete quei simboli delle antenne. E li bisognerà. Mi sa ripararlo. Ma è un tizio che ha perso la chiave. Era una quest che avevo ricevuto. Mentre in fondo. In alto. In alto. Vicino al fiume. C'è la discarica. Dove possiamo buttare le cose. I rifiuti che raccogliamo. E ci pagano in base a quello che raccogliamo. La casa è un po' così. Però è carino il fatto che potete poi portarvi dentro l'auto e sistemarlo. Questo funziona. E questo lo potete usare per caricarci il motore e sistemarlo. Quindi la prima cosa che farò è andare a smontare il motore. Dovrebbe avere qualche bullone sotto. Che lo disancora dal telaio della macchina. E poi inizierò a revisionarlo. Insomma e metterlo a posto. È stimolante come cosa. Senz'altro ha davanti a sé un mondo di aggiornamenti. E spero che non lo mogli. Perché io questo gioco qui lo aspettavo parecchio. Anche magari in giugno a un sistema di bollette. Adesso è più grezzino il gioco quindi. Ma le promesse sono senz'altro ottime. Per chi come me è appassionato di giochi di quel tipo. Alla Maestra Mercado la Mombas. Ragazzi io vi ringrazio per la visione. E vi invito a farmi sapere che cosa ne pensate di questo titolo. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. Alla prossima ragazzi.